La differenza la fa un allenatore con i controcazzi, con i controcoglioni, perché io era da tantissimo tempo che non giravo continuamente con questa maglia dell'Inter, pure in inverno, pure quando fa freddo, perché siete molto fondamentali, perché veramente mi avete strappato il sorriso, mi avete tolto emozioni, mi avete dato emozioni come nessuno al mondo, quindi veramente, cioè questo stemma qua rappresenta tutto per me, rappresenta la mia vita, rappresenta il mio primo amore soprattutto, quindi io ringrazio veramente ancora, veramente raga volevo fare un altro video perché volevo parlare di questo grandissimo allenatore che io ho contestato e chiedo umilmente scusa, Antonio Conte scusami tanto quando ti ho criticato, ma è un allenatore ragazzi che tutti vorrebbero alle loro spalle, tutti vorrebbero nella loro squadra, stiamo parlando di dirigenti, presidenti eccetera, tutti tutti vorrebbero Antonio Conte, veramente un professionista, non molla niente, non molla nulla e io sono soprattutto emozionato perché ho capito che stiamo crescendo tutti insieme, stiamo facendo qualcosa di importante, qualcosa veramente, dico veramente di importante, quindi veramente ringrazio ancora l'Inter per queste emozioni che mi sta dando, per queste gioie, e quindi sono veramente commosso. commosso, è un allenatore con i controcazzi, un allenatore che dà veramente determinazione a questa squadra, la voglia, la grinta, c'è tutto, la cinicità, che è una cosa importante per vincere comunque i trofei, c'è veramente tutto, tutto, tutto perfetto. Un bacio a tutti ragazzi, è sempre solo Forza Inter.